Hinnerebner il pivot del Bolzano Gaeta, vediamo a spazio poi libera su Hinnerebner l'1-0 firmato Bolzano Hannes Hinnerebner va dentro Kiste, ha parato ancora Zilinparis un po' fuori misura il lancio invece lo raccoglie bene dal lago e la velocità poi porta al gol vincente Hinnerebner ha la sua conclusione punteggio di 6 a 2 Di Maggio tra le gambe di Costas, Zilinparis quando siamo entrati nel nono minuto il 6 a 3 di Adriano Di Maggio Stabellini allarga molto bene per Giungo sul primo palo il gol del 7 a 4 Alessio Giungo sopra la testa Adriano Di Maggio morbido a ingannare Zilinparis deliziosa la rete che porta alla parità 7 a 7 fra Bolzano e Pressano a cercare il contatto senza il braccio del passivo tira Turkovic mamma mia Dejan Turkovic all'incrocio dei bali una bomba l'11 a 9 tira fuori il coniglio dal cilindro Dejan Turkovic si è concluso intanto qui il primo tempo con il Bolzano che conduce 13 a 11 sul Pressano e da sotto molto bella la rete messa a segno da Mario Sporcic il bellissimo gol qui di Bertolez lascia a Stabellini finalmente Riccardo Stabellini Stabellini allarga Giungo tocca solo Hober Koffler eccolo il pareggio 16 a 16 e la bella rete di Hannes in Rebner Gaeta Turkovic la volante molto 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 bello Dimancio va lui a puntare l'uomo poi lascia per Bertolez che ha spazio per concludere 24-21 attenzione il penetrazione vincente di Felipe Gaeta 27-24 Bertolez in palleggio non ma lui al tiro ci prova Stabellini mamma mia che gol di Stabellini 28-27 proverà a pareggiare Stabellini sul muro tirisce così la FIGH Supercoppa 2015 è del Bolzano